Allora, adesso parliamo di Ibra, perché molta gente ha la memoria corta. Io il sabato è il giorno in cui mi riposo, ma oggi sono Gerry Polemica, veramente, perché non se ne può più di tanti interisti che confondono il calciatore con l'amore, con la maglia, con le cose. Allora, partiamo dalla storia, raccontiamo Ibra, parliamo di qualche episodio e poi valutate voi. Allora, sembra, secondo alcune voci, sembra che la questione Ibra, io non ho fonti delle fonti, quindi non parlo, dico solo che ho chiesto da alcune persone, mi hanno confermato addirittura quattro persone che Ibra-Inter è una roba molto avanzata. Ci sarebbero, non dico problemi sugli accordi, ma ci sarebbe, scusate, problemi su qualche dettaglio, ma in realtà l'accordo è su tutto, quindi io non lo so. Se viene Ibra-Imoic, oggi qualcuno lo dà per fatto, che torna in Italia è assodato. Poi lui ha parlato di Bologna, di Mijajlovic, di Napoli, ma soprattutto di Conte, di Lukaku, di Inter. Lui ama Milano, vi ho fatto cento video in cui lui ama Milano. Abita in via Mozart, che è vicino, dietro via Senato, dove io avevo l'ufficio nel 2011 e mi sono trovato anche striscia quando gli ha dato il famoso tapiro, che lui era al Milan. Mi pare che lui poi avesse fatto anche lì una scenata, tipo rompere il tapiro, e poi gli hanno spiegato che era la roba di Berlusconi e quindi lui poi si era calmato, non mi ricordo. Comunque, allora, per farla, la moglie è pazza di Milano, perché è dritta lì a 50 metri c'è via della spiga, non lo so, comunque, facciamola breve. Per chi non conosce la storia, apre le orecchie. Premessa, premessa 1. Per il sottoscritto, cioè per me, Zlatan Ibrahimovic è una roba, l'ho già detto, è come Baggio. Cioè, Zlatan Ibrahimovic è il calcio, è il giocatore per me più bello da vedere insieme a Messi, è il giocatore più bello da vedere nel calcio moderno, nel calcio muscolare del cazzo, è il calciatore più bello da vedere perché unisce la classe sopraffina a una fisicità bestiale. È meraviglioso vedere tanta tecnica dove c'è tanto fisico. Io mi ricordo ancora il gol di testa storto, ma delle robe, Ibra, cioè io mi ricordo ancora che lui a Parma ci fa vincere un campionato. Quindi, chapeau, lui entra a Parma, ci fa vincere un campionato dopo un lungo infortunio, sennò quel campionato lì a Parma non lo portiamo a casa ed è una beffa perché, voglio dire, quel campionato lì era da vincere, lo stavamo vincendo, la Roma ci aveva recuperato, ma comunque grazie a Zlatan sia a Parma abbiamo vinto lo scudetto. Fine, perché entra al sessantesimo. Poi, qualcuno non si ricorda un po' di cose, quindi premetto che per me Zlatan è, cioè io lo prenderei anche 50 anni, ok? Perché lui è un calciatore che cambia e sposta veramente gli equilibri, è un calciatore pazzesco, è uno che dà fermo, mi ricordo a Empoli. A Palermo, quando la partita era ferma, fa gol. A parte che Ibra fa il gol più bello della storia del calcio insieme a Maradona e forse a Messi, perché quel gol, anzi, quel gol che lui fa all'Ajax a 18 anni è qualcosa che va oltre, forse anche Maradona, e lo dico io che sono un maradoniano puro, cioè il gol con l'Ajax in dribbling ha una tecnicità, una roba, vabbè, fine. Quindi Zlatan non si discute. Allora, qual è il punto? Quando Ibra viene all'Inter, ok? Vince, fa vincere, dà spettacolo, ma riceve da noi interisti, dagli allenatori, dai compagni, nonostante il caratteraccio, e meno male che in quell'Inter c'era Materazzi che lo teneva a bada, riceve un amore incondizionato. Io vorrei fare una classifica dei cornuti e degli infami. Ultimo posto, Vieri, perché Vieri in realtà all'Inter voleva dare, ha dato l'anima, Vieri si deprime e va via, quindi l'ultimo con cui prendersela è Bobbo Vieri. Parlo di grandi calciatori con cui il rapporto si è rotto. Poi c'è Ronaldo, Ronaldo da un lato è vittima di Cooper, di Moratti che fa scelte sbagliate, ma dall'altro lui forza per andare al Real, noi lo aspettiamo dopo l'infortunio. Sia Ibra che Ronaldo poi vogliono tornare a Milano ma vanno al Milan per farci rosicare, fallendo perché vabbè, non è che combinano tanto. Però insomma anche Ronaldo è molto più infamone di Vieri. Il Vieri è quello che io scuso di più perché l'ho visto, l'ho sentito, ci ho parlato. Cioè, ok. Poi, Zlatan era degli infami, come direbbero i Tamarri, ma è vero. Zlatan viene, porta in dote quello che deve fare, ma gioca in una squadra straordinaria, perché spesso comunque, ok, con Adriano si trova bene, con tutti, eccetera, eccetera. Vince, fa dis, fa forca. E poi a un certo punto, chi non c'era, taccia, chi non c'era, taccia. Quando lui aveva già deciso, noi eravamo in centro a festeggiare lo Scudetto vinto a Parma, ok? E a un certo punto, lui... No, scusate, ho sbagliato. Lui diventa capocannoniere e noi festeggiamo, scusate, con il Siena. Ho sbagliato. E andiamo in centro a festeggiare, insomma, e lui è sopra il Pullman, in quello Scudetto che noi in realtà vinciamo con Murigno quando il Milan perde a Udine. Quindi arriva il Pullman, parte dalla Pinettina, ci avvisano, e loro vengono in centro. Poi a Inter-Siena abbiamo fatto la festa, ma lui, scusate, lui il Pullman, parte dalla Pinettina, era un sabato sera perché il Milan perde a Udine e noi siamo matematicamente campioni. Arrivano in centro, lui aveva già deciso, bla bla bla, è Barcellona, e noi gli cantiamo Zlatan non ci lasciare, Zlatan non ci lasciare sotto il Pullman. Anche io mi vergognavo perché non esiste implorare un calciatore di rimanere all'Inter di Murigno, che puntava in altissimo, con ancora Muratti che spendeva, dove lui era il fenomeno insieme ad altri, una squadra galattica. Lui decide di andare a Barcellona perché era la squadra, come sempre, Ibra è sempre una squadra della sua vita, il Milan è la mia famiglia, l'Inter è la mia vita, lui va a Barcellona, non si trova bene, viene eliminato da noi e noi solleviamo la Champions, e questa roba gli rimane qua. Gli è rimasta sul gozzo tutta la vita, tanto che prova a ritornare, tanto che poi vai al Milan. Ma il Milan chiaramente vince lo Scudetto perché lui è fortissimo e gioca insieme ad ancora calciatori, quell'anno fu l'ultimo anno di una campagna forte di Berlusconi. Con Allegri non va d'accordo, non ho capito cosa succede quando giocano con l'Arsenal a Londra, ma qualcuno prende per Ibra, credo che sembra che racconti insomma questo scontro fisico con Allegri, perché Allegri gioca un po' diciamo da difensivista. Oggi Allegri ha dichiarato che Ibraimovic è uno che rompe lo spogliatoio, è uno che se la prende con i compagni. Cioè, Maradona, che era il calcio, era amico di Ciro Muro, di Salvatore Bagni, era amico, non lo so, di tutti quei difensori, non lo so, mi viene in mente, Corradini, non lo so, tutti quei difensori normalissimi, i portieri, non so, Giuliani, con cui lui aveva che fare. Cioè, lui era amico di tutti, non ce n'è uno che parla male di lui, e lui era Maradona, ma lui era conscio della sua potenza, era conscio del fatto che lui era di un altro pianeta, sapeva benissimo e non se l'è mai, io non l'ho mai visto, ma io non l'ho mai visto Maradona prendersela con un compagno, l'ho visto fare tutte le cazzate del mondo, rovinarsi, distruggersi, fare risse, io non l'ho mai visto, né in campo, né in una dichiarazione, parlare male di un compagno, più debole di lui, mai, 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 questo è un leader, questo è un trascinatore, lui non ha mai parlato male di un compagno, non esistevano, e i suoi compagni non hanno mai parlato male di lui, gli hanno perdonato tutto, sapevano com'era fatto, fine, fine, crippa, cioè non ce n'è uno che non gli voglia bene, e che non gli abbia, quindi questo è un campione, ok, quelli come Messi, che si lamenta che Neymar non è tornato, che Ibra gioca, perché lui voleva questo, però poi c'è Petro, tutti quelli che blabla, Ronaldo che fa sempre queste scenate, Ibra è uguale, dice oggi Allegri, che Ibra Ibrahimovic, rompeva le palle, a tutti i calciatori del Milan, perché non erano alla sua altezza, e si incazzava, ha detto che due anni, incazzato, Ibra è questo, a 38 anni non è cambiato, non è cambiato, quindi al di là, del fatto che lui è il più infame di tutti, perché ha scelto di andare via dall'Inter, perché qua, poteva rimanere, e Morigno gli ha parlato, rimani qua che vinciamo la Champions, rimani qua, lui se ne è voluto andare per vincere, e quindi, e in più, il gesto che fa, a noi tifosi, dopo che mi pare diventi capocannoniere, non so se poi l'hanno lì stesso, comunque fa un gesto, dopo il blocco a Lazio, che è vergognoso, cioè, vergognoso, tu vuoi decidere di andare via, e ci mandi a cagare, ci fai il segno, questo qua, di succare, ma è una cosa da, io, voglio dire, Balotelli, butta la maglia per terra, è finito per noi, non esiste, finito, ma Ibra, che fa quel gesto, dopo tu, infatti lo striscione era, ti abbiamo coperto d'amore, non è saputo, capire, o apprezzare, ora sei tu che ce lo devi succare, mi sembra, ora che un'altra maglia, hai baciato, sei tu che ce lo devi succare, ma è vero, ma, 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 non è, già la scelta è andare via, e basta, è un tradimento, è un tradimento, perché stai tradendo una grandissima squadra, che poi, è proprio poi, un po' sconclusionato, perché poi diventa, pazzo di Mourinho, ne parla nel Libro, lo rincone ovunque, si vedono a Manchester, vincono insieme, no, e adesso parla di Conte, che assomiglia al classico, cioè, cerchiamo di capirci, cioè, abbiamo mandato via, dei rompicoglioni, adesso arriva Ibra, poi, ci farà vincere lo squadro, 20 gol, c'è una dignità, io ho scelto, e l'Inter ha scelto una strada, poi, voglio dire, si è scelto di prendere Ibra, innanzitutto, spiegatelo a me, a me e a tutti quelli, che il gesto di succare, non lo fai a San Siro, perché tu, se noi fischiamo, noi, c'erano delle persone, che hanno fischiato, un cross di Maicon, l'ultimo anno, che era a Milano, e la gente si è alzata a fischiarlo, io mi sono anche arrabbiato, con alcune persone, ho detto, ma ragazzi, ma come state, e Maicon, ha fatto il gesto d'ombrello, lungo tutta la tribuna, ma aveva ragione, ci sta che a volte ci sono dei batti becchi, anche con Mancini, con la Sampdoria, poi lui si è girato, e ha zittito la tribuna, ci sta, perché a volte il calcio è questo, a volte l'amore è critica, e ci sta, però, cioè, Zlatan, vuoi andare via, ci mandi a quel paese, vai al Milan, poi fai così, poi giudichi, poi no, ma ragazzi, è una roba, gli scontri con Materazzi, e poi, ripeto, mi fa strano, che in questa Inter, che in questa Inter, che ha scelto, e ha fatto scelte, anche pro spogliatoie, a meno che, Conte non lo sappia gestire, ma rimane, attenzione, se avete ascoltato, e se c'eravate, io c'è, io ero sotto il pullman, io non ho urlato, ma tutti urlavamo, tutti, insomma, urlavamo, Zlatan non ci lasciare, che è una roba, quando vai dall'amorosa, mi lasciare, che cazzo mi lasciare, che rava, implorare un giocatore, per stare qua, a vincere la Champions, comunque, o come minimo, lo Scudetto, la Coppa, con Mourinho, che era di fianco, dei campioni, è arrivato, e comunque, è arrivato, e glielo ha messo in culo, quindi, voglio dire, tutto qua, questa è la storia, rimane, il fatto che, se Ibra torna all'Inter, prima di tutto, l'Inter, lo deve spiegare, un po' lo spogliatoie, come funziona, non è che c'è Conte, mi fido, però, deve spiegarlo, soprattutto, a noi tifosi, nel caso, dovesse veramente arrivare, perché, la questione, con Ibra, cioè, la questione, lui si è comportato, veramente male, e, questa è la situazione, poi, se vogliamo passare, soprattutto, sopra ogni cosa, anch'io, stamattina, ho ricevuto messaggini, di tanti amici, tra l'altro, saluto, un carissimo amico, un ragazzo, che ha una pompa di benzina, a Treviglio, ciao, e saluto, Matteino, Matteino, che stamattina, mi ha svegliato con Ibra, caro Matteino, e quindi, vabbè, insomma, questa però, questa è la storia, poi io vi faccio questa analisi, dopodiché, fatene, l'uso che volete, se Ibra viene all'Inter, va bene tutto, al di là di questo, però, c'è qualcosa da chiarire, non è che uno può arrivare, felice, sciarpa il collo, no, 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 perché stavolta, mi spiace, mi spiace, ma non ce n'è, cioè, può passare, ripeto, può passare per Vieri, perché ha dato l'anima, non può passare per Ronaldo, che viene qua, non mi interessa, a me che il fenomeno, il fenomeno, i fenomeni sono quelli che amano la maglia, gli altri, via, però, lì si può capire qualcosa, perché con Moratti, Cooper, ma Ibrahimovic ha scelto, liberamente, di andare al Barcellona, dicendo alla squadra dei miei sogni, sono qua a vincolo a Champions, e se ne è andato via, in maniera indegna, insultando il popolo, che tanto l'ha amato, io dico, che, meglio che non venga, ma se viene, facciamo, facciano qualche riunione prima, non lo so, con la rappresentanza dei tifosi, degli interclub, perché, lui non è degno di entrare con quella maglia di nuovo in campo, e lo dico con la tristezza nel cuore, perché per me Ibra è il calcio.